buongiorno a tutti questo è il nostro nuovo sito erne e gigi cianne io sono gigi e questo è il mio compagno d'avventura che è impegnato a fare il sito niente noi abbiamo finito mi raccomando faremo molti video interessanti ma soprattutto divertenti questo è il nostro forte di tipo tag con me tag tutorial tante cose mi raccomando commentate